Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. La Turchia continua ad addormentarsi per forti nevicate. Quasi 800 strade sono bloccate a causa del maltempo nel paese. Le regioni di Sivas al centro del paese e Bitlis a Est hanno sofferto di più. Le nevicate hanno portato a un forte aumento degli incidenti. Numerosi incidenti hanno causato l'arresto del traffico sull'autostrada Conia-Antalia. Il Dipartimento Meteorologico di Bitlis ha riferito che lo spessore del manto nevoso è aumentato a 1,5 metri nel centro della città e fino a 4 metri nelle parti più alte. Allo stesso tempo, nell'ultimo giorno a Bitlis sono caduti 174 centimetri di neve. È qui che le nevicate sono continuate negli ultimi 10 giorni. A questo proposito, sono in corso i lavori per riprendere la comunicazione su 67 strade nelle zone rurali, 92 strade rurali sono bloccate a Erzurum, 1000 persone sono state coinvolte nella ripresa del movimento. Al centro da nessuna parte lo spessore della neve raggiunge i 30 centimetri e negli altopiani un metro. La strada 131 e due autostrade sono bloccate. A causa delle condizioni meteorologiche, gli studi in città sono stati sospesi. A seguito di un incendio, i residenti di parti di Laguna Beach, California, USA sono soggetti a ordini di evacuazione obbligatori. Secondo Brian Fennessey, capo dei vigili del fuoco della contea di Orange, l'incendio, causato da forti venti, ha già distrutto circa 60 ettari di terreno. Non ci sono ancora notizie di vittime, diversi edifici sono già stati danneggiati da un incendio. L'incendio si sta avvicinando rapidamente alle case e sta crescendo anche molto intensamente, l'incendio è stato segnalato poco dopo le 4 del mattino. Gli aerei dei vigili del fuoco sono stati coinvolti nell'estinzione dell'incendio. Laguna Beach si trova sulla costa a circa 65 chilometri a sud di Los Angeles. La California meridionale sta vivendo un clima insolitamente caldo combinato con i venti di Santa Ana. In California, la stagione degli incendi si è allungata negli ultimi anni. Intense piogge torrenziali hanno colpito il nord di Gerusalemme, provocando inondazioni localizzate. La zona più colpita è stata Kaf Rakab. Il livello di piena ha raggiunto i 60 centimetri. Il traffico nella zona è stato paralizzato. I soccorritori hanno effettuato diverse operazioni in acqua, salvando gli automobilisti bloccati dalle loro auto allagate. Questa non è la prima pioggia battente in Israele che ha provocato inondazioni. Solo poche settimane fa si è sviluppata una situazione molto simile, poi la città di Lod, situata a 20 chilometri a sud-est di Tel Aviv, è stata gravemente danneggiata, uno dei distretti di cui è stato tagliato fuori dal mondo esterno. In molte parti del paese, le inondazioni hanno trasformato le strade della città in fiumi. I servizi di soccorso sono stati coinvolti nel salvataggio delle persone. Domenica. Anche le temperature sono scese al di sotto della media per questo periodo dell'anno. Una forte grandinata ha colpito la città di San Pedro de Colalao, nella provincia di Tucuman, in Argentina. La dimensione dei chicchi di grandine caduti variava a seconda della zona, da 4 cm a 5 cm di diametro. Secondo i media locali, la grandine è stata accompagnata da un vento abbastanza forte, le cui raffiche hanno raggiunto i 22 metri al secondo. La grandine, durata circa 15 minuti, ha causato danni alle auto, ai tetti delle case e ai vetri rotti. Testimoni oculari hanno pubblicato foto e video del fenomeno naturale sui social network. Le autorità hanno iniziato a valutare i danni dopo la violenza degli elementi e, se possibile, a fornire assistenza alla popolazione. In generale. L'Argentina è famosa per le ricadute dei grandi chicchi di grandine, detiene anche diversi record mondiali per la dimensione dei chicchi di grandine, se così si può chiamare. Le dimensioni di alcuni blocchi di ghiaccio hanno raggiunto i 23 cm. L'Etna eruttò nell'isola di Sicilia. L'osservatorio vulcanico di Catania ha riferito che ieri sera è ripresa l'attività esplosiva nel cratere della sommità sud-est del vulcano. Nel cratere della Valle del Bove è iniziato un nuovo episodio di zampillo lavico, che ha portato a un alto e denso pennacchio ricco di ceneri e gas, che è salito a circa 10 km di altezza e si è spostato verso ovest. Un episodio di violento parossismo seguì un acuto picco di tremore. La cui magnitudo massima era 3,5. Questa potente eruzione vulcanica si è verificata dopo diverse settimane di silenzio. L'Etna è il vulcano più alto e attivo d'Europa. Secondo varie fonti, l'altezza del vulcano varia da 3.326 a 3.350 metri cambia ad ogni eruzione. Venerdì nella città canadese del Saskatchewan si è verificata la tempesta di neve più forte, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 25 metri al secondo. I meteorologi canadesi hanno emesso un avviso di bufera di neve domenica sera per gran parte del Saskatchewan meridionale, comprese le aree e le città circostanti. La caduta di neve e il forte vento hanno creato condizioni per la visibilità zero, oltre a problemi sulle strade. C'è anche una maggiore minaccia di una significativa, pioggia gelata, nel sud-est del Saskatchewan e nel Manitoba centrale fino a sabato mattina, con possibile formazione di ghiaccio fino a un centimetro. Ciò può portare a complicazioni sulla strada, nonché a una possibile interruzione di corrente, in alcune parti del Saskatchewan, il livello di nevicata può arrivare fino a 50 centimetri. Un terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato in provincia di Reggio Emilia. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia d'Italia. Il focolaio si trovava a una profondità di 6 chilometri, l'epicentro era vicino al villaggio di Correggio con una popolazione di circa 26.000 persone. I media locali hanno riferito che molte persone sono scappate di casa spaventate. Secondo i dati preliminari, non ci sarebbero vittime o danni. L'area è stata anche colpita la scorsa notte da due scosse di assestamento relativamente intense e chiaramente avvertite in gran parte della regione. La magnitudo massima di cui era 2.7. L'ultimo potente terremoto in Italia si è verificato a fine agosto 2016 nei pressi della città di Amatrice, al confine tra le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Poi 299 persone sono morte. Gli incendi continuano a divampare in Argentina. Le fiamme, che qualche giorno fa hanno avvolto le foreste vicino alla città di Colientes, si sono rapidamente diffuse nell'omonima provincia e hanno imbiuttito oltre 300.000 ettari a sud del confine tra Argentina e Paraguay. Secondo i vigili del fuoco provinciali, i focolai più forti si sono concentrati nelle aree di Santo Tome, San Miguel e Curuzuku e Isha. Qui le fiamme sono cresciute particolarmente rapidamente, quindi, nel tentativo di tenere sotto controllo gli incendi, le autorità hanno coinvolto 4 idranti e più di 60 vigili del fuoco. A 18 chilometri a est di Concepcion, le fiamme hanno causato enormi danni ai territori del Parco Nazionale Ibera, il luogo più importante per la conservazione degli ecosistemi locali. L'incendio ha consumato non solo preziosi prati e palmeti, ma ha anche affrontato senza pietà decine di rappresentanti della fauna locale. Una potente tempesta di neve ha colpito la notte dell'11 gennaio nel comune di Oppi Pidal, in Norvegia. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 27 metri al secondo. La visibilità sulle strade era quasi nulla. Tali condizioni meteorologiche continueranno per almeno altri due giorni. Le autorità hanno chiesto in modo convincente di posticipare tutti i viaggi programmati per il periodo della violenza degli elementi. Alcune aree hanno già coperto da 2 a 3 metri di neve. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Questa non è la prima tempesta invernale quest'anno, che dilaga qui. La prima bufera di neve qui è stata abbastanza di recente, letteralmente due settimane fa. Ha anche lasciato enormi cumuli di neve e strade bloccate. La gente del posto condivide foto e video della pioggia e alcuni riescono a malapena ad uscire dalle loro case. 1200 militari e 500 vigili del fuoco in Cile stanno combattendo numerosi incendi boschivi che hanno inghiottito il paese. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in gran parte del Cile a sud della capitale Santiago. Gli incendi, che sono definiti i più forti del paese negli ultimi decenni, sono iniziati circa una settimana fa. L'incendio si è diffuso rapidamente a causa del calore anomalo che si è instaurato nel paese. Gli incendi hanno già distrutto oltre 50.000 ettari di foresta, uccidendo tre persone e ferendo circa 100 persone, e distruggendo almeno 20 case. In connessione con la minaccia della diffusione del fuoco, è iniziata un'evacuazione di massa dei residenti. La National Forest Corporation ha dichiarato un'allerta rossa per il comune di Collipulli. È qui che si trovano gli incendi più grandi. Ma questo video è stato inviato da uno dei residenti della città di Patrasso in Grecia. Fu testimone di questo fenomeno quando una nuvola di uccelli gli volò davanti. All'inizio non si rese conto che si stava avvicinando a lui così in fretta. Ieri in Messico, gli uccelli hanno sorpreso la gente del posto, solo lì, sfortunatamente, alcuni di loro sono morti. Mi chiedo a cosa sia collegato questo volo, cosa ne pensate? Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 101 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.5, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. La spiaggia delle cattedrali, situata nel comune di Ribadeo nella provincia spagnola di Lugo, è stata dichiarata monumento naturale. Sebbene ufficialmente questo luogo sia chiamato costa dell'Acqua Santa, tutti la chiamano la spiaggia delle cattedrali, per via delle gigantesche e bizzarre formazioni rocciose. Secondo i risultati di un'indagine internazionale, Playa de las Catedrales è stata riconosciuta come la spiaggia più bella d'Europa. Il secondo posto è stato preso dalla spiaggia italiana di La Pelosa in Sardegna. Il terzo posto è andato a Cleopatra Beach ad Alania, in Turchia. Ciò che rende Catedrals Beach diversa dalle altre bellissime spiagge sono le bizzarre formazioni rocciose. Particolarmente degni di nota sono i bellissimi archi in pietra che si trovano ogni 30 metri circa. Per godere veramente di questa meraviglia della natura, come discesi dai fotogrammi di un film di fantascienza, è meglio recarsi alla spiaggia delle cattedrali con la bassa marea. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.